Negli ultimi giorni l'organico della Pistoese si è arricchito di due nuovi giocatori. Anlili, che ha già debuttato con la maglia arancione, difensore. Tutti presenti in questa riparta con un bagaglio di esperienza già abbastanza notevole. Sì, dopo aver fatto Stragioni da Brescia, ho fatto quattro anni a Virtus Centella, dopo che sono passato alcune a Forlì e l'anno scorso Ancona. Anlili è un cognome un po' strano, è estero. Sei di origine? Sì, i miei genitori sono del Marocco, però io sono nato in provincia di Brescia. Che tipo di giocatore sei? Sono un giocatore che posso giocare sia a mezz'ala che davanti alla difesa. Mi piace più recuperare palloni che impostare il gioco e sono uno che corre abbastanza tanto. Ho chiesto a Ancona di andare via perché non mi trovavo più bene. Poi abbiamo trovato un accordo consensuale e ce l'ho in diverse società. Ho accettato Pistoia perché me ne hanno parlato tutti bene. Mi hanno detto che è una società molto organizzata e quindi non ho esitato a venire qua. Queste potenzialità di questa squadra dove possono arrivare? Penso sia molto presto per dirlo. Però penso sia importante partire bene, col piede giusto e una volta raggiunta la quota salvezza poi quel che verrà in meglio sarà meglio per noi.